Una sana alimentazione è il primo passo per stare bene, quindi come anticipavamo, anticipavamo prima, dobbiamo parlare di salute con il dottor Salvatore Cusenza, perché la salute vi è mangiando. Grazie alla regia per aver mandato la sigla della salute vi è mangiando con il dottor Salvatore Cusenza, che ritroviamo in studio, in diretta, qui a San Giovanni Rotondo. Buongiorno dottore, ben trovato. Buongiorno a te. Come va, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Oggi ce la prendiamo. Iniziamo a vedere stralci di estate. Sì, è vero, anche se dicevamo stamattina l'estate sta arrivando con molta lentezza, però ecco, man mano che trascorrono i giorni ci avviciniamo inesorabilmente, motivo per cui abbiamo deciso di riprendere questi appuntamenti per fare un focus sulla sana alimentazione che deve essere una buona pratica quotidiana e costante nel tempo, non una pratica intensiva fatta soltanto in determinati periodi dell'anno, come l'estate appunto, per raggiungere risultati e performance che poi forse fanno più bene che male al corpo e allo spirito. Esattamente. Quindi ridursi agli ultimi giorni per cercare di arrivare in una forma quasi ottimale in poco tempo è uno stress per il corpo e poi se ne ripagano le conseguenze da settembre in poi. Quindi, lo ripeto sempre, la parola dieta deriva dal greco diet, quindi stile di vita, adottare uno stile di vita meno restrittivo durante l'anno, ma che ci consente di arrivare e di stare sempre in salute. Non bisogna fare delle estremizzazioni in un mese dell'anno e poi per 11 non far nulla, ma fare una vita normale per 12 mesi, concedendosi anche degli sfizi. Esatto, lo dicevamo anche settimana scorsa, per cui aggiungerei un altro termine a stile di vita che è quello che sostanzialmente sintetizza il tuo ultimo pensiero che è equilibrio. Una vita equilibrata ci aiuta a star bene non solo fisicamente ma anche psichicamente, perché il benessere fisico e il benessere psichico vanno di pari passo ed è un benessere, un equilibrio che appunto dobbiamo cercare di mantenere tutto l'anno. Le diete di diete ce ne sono tante, abbiamo già affrontato alcune DS. Oggi volevamo parlare, grazie alla tua preziosa presenza in questi studi, dottore, del digiuno intermittente, perché è una tra le altre pratiche che vengono adottate appunto a scopi dietetici. Sì, ultimamente se ne parla tanto negli ultimi due o tre anni, perché il professor Bartellongo, che partì dalle Liguria anni fa, di origini calabrese, per andare a Los Angeles a suonare la chitarra, alla fine la chitarra non l'ha più suonata, ma è diventato il più importante scienziato per quanto riguarda la ricerca anti-aging e l'alimentazione anti-tumorale. Quindi il digiuno intermittente consiste nel mettere a riposo l'organismo per tante ore durante il giorno e la tipica dieta di digiuno intermittente va da 16 ore di digiuno, anche 14, e nelle altre ore fare due o tre pasti. Ricordiamoci che il digiuno viene contemplato in tutte le religioni, addirittura si passa anche a fare giorni interi di digiuno. Cosa fa il digiuno? Il digiuno non fa altro che rigenerare il corpo perché lo mette a riposo. In quelle ore di digiuno bisogna idratarsi, logicamente, con acqua, tisane, tè, camomilla senza zucchero e questo porta alla rigenerazione di cellule nuove e alla morte programmate per apoptosi delle cellule vecchie. Quindi ha un effetto importante di rigenerazione e di anti-aging. Mentre per quanto riguarda l'applicazione sul paziente oncologico, va ad affamare le cellule oncologiche. Quindi ha un effetto anche a livello scientifico per quanto riguarda il tipo di cura oncologica associando questo tipo di alimentazione. Ecco, dottore, se dovessimo fare un esempio pratico, oggi è martedì e la giornata è appena incominciata, come andrebbe gestito un corretto digiuno intermittente? Facciamo colazione, non facciamo colazione, pranzo, cena? Dipende, dipende, dipende. Creiamo un approccio standard. In 16 ore di digiuno e in 8 ore, dal primo pasto all'ultimo pasto, consumare i 3 pasti. Se decidiamo di saltare la colazione e decidiamo di fare il primo pasto alle ore di pranzo, se noi pranziamo alle ore 13, entro più 8 ore, entro le 13, entro le 21, dobbiamo fare finire l'ultimo pasto. Dalle 21 alle 13, il giorno dopo, possiamo assumere solo acqua, tè, caffè, tisane, senza zucchero. Quindi in queste 16 ore, in cui è contemplata anche le 7-8 ore di riposo, il corpo si rigenera. Faccio anche un altro esempio. Se noi l'intestino, lo stomaco, lo mettiamo a riposo 16 ore, non può che farci bene, perché è un organo sempre in attività. Quindi veramente chi prova il digiuno intermittente ne vede i benefici sulla pelle, sul tono, su tante cose. Poi si può anche portare ad estremizzazioni. In 4 ore si fanno due pasti e in mente il digiuno. O addirittura estremizzazioni più eccessive. 3 giorni in cui si può mangiare e un giorno intero di digiuno. Ci sono varie forme di digiuno. Però diciamo che il più tranquillo, il più utilizzato, è le 16 ore di digiuno e 8 in cui si può mangiare. Un pranzo, una piccola cena e un piccolo spuntino. Considerando sempre un carico moderato di carboidrati. In effetti è semplice come impostazione. 16 ore di digiuno e 8 ore in cui consumare due pasti. Sì, diciamo che nella pratica dello studio la cosa che è noto è più facile fare pranzo, spuntino e cena e non colazione, pranzo e uno spuntino alle 3 alle 4 e poi rimanere tutta la sera a digiuno. È più facile saltare la colazione. Allora, intanto ricordiamo che durante il digiuno comunque bisogna rimanere idratati, per cui dobbiamo bere. Sì, certo. Ma ricordiamo anche che, lo abbiamo detto sempre, ed è la ragione per cui ne parliamo con un esperto, che non dobbiamo improvvisarci dietologhi, ma dobbiamo rivolgersi sempre ai nostri medici di fiducia, perché poi ogni, dottore mi correggerai se sbaglio, ognuno di noi ha delle caratteristiche specifiche e ha bisogno di percorsi specifici. Certo. Ormai siamo arrivati a un punto di precisione sull'analizzare la composizione corporea di un essere umano, quindi anche due gemelli hanno una composizione diversa. Basti pensare che se si viene nel mio studio si fa prima di tutto una biempedenziometria e da lì si va a vedere la composizione del corpo, quindi quanta idratazione c'è, quanta disidratazione, quanta massa muscolare, qual è il metabolismo basale, quindi da lì decidere cosa fare, che tipo di approccio utilizzare. Ripeto sempre che non è una dieta la risoluzione del problema, ma all'articolazione di più diete conseguenziali, quindi ogni 4-5 settimane il cambio dell'approccio alimentare, per fare in modo di non far abituare il corpo a quello che stiamo facendo, perché purtroppo, o per fortuna, l'accumulare grasso per il corpo, per l'uomo, è stata la sua salvezza durante le carestie. Quindi meccanicamente e fisiologicamente il corpo tende, quando c'è un eccesso di glicemia nel corpo o di grassi, tende ad accumularlo, perché pensa sempre che in un futuro ci possa essere una carestia e utilizzare quelle fonti di riserva. Ecco, ritorna un po' il concetto dell'equilibrio di cui parlavamo prima, torno a dire che è importante anche l'idratazione, ma ecco, in chiusura dobbiamo fare anche un riferimento sempre opportuno, immancabile, a una certa proattività, cioè la dieta va accompagnata in quanto stile di vita, non solo ad una corretta e sana alimentazione, ma anche ad un minimo di attività fisica. Bravo. Fatto 100, alimentazione e sport, non può bastare solo l'alimentazione e non può bastare solo lo sport. Però diciamo che un 70% lo fa l'alimentazione e un 30% lo sport. Quindi, se ci allineiamo tantissimo, ma non usiamo la benzina giusta, risolviamo poco. Se mangiamo benissimo e non facciamo un po' di sport, non ottimizziamo quello che facciamo. Quindi, se associamo le due cose e abbiamo un po' di tempo, è il massimo. Ripeto sempre che non bisogna per forza fare 50 ore di sport a settimana, ma basterebbero anche un paio d'ore, tre ore di camminata veloce a settimana, non tutti di fila, ma anche a giorni alterni. Per camminata veloce si intende una camminata a circa 6 km l'ora, quindi ogni 10 minuti bisogna percorrere un chilometro. Si ha il massimo di dispendio di tessuto e di poso. Molto bene. Quindi, ecco, abbiamo avuto ancora una volta l'occasione per aumentare la nostra consapevolezza rispetto al fatto che basta poco, basta un minimo di impegno per poter custodirci meglio, per poter preservare meglio la nostra salute. Il nostro tempo a disposizione anche oggi è volato. Dottore, ci ritroviamo settimana prossima, stesso posto, stessa ora per tornare a parlare. Stessa sedia. Stessa sedia, sì. Oggi ce la siamo presa un po' più comoda. se ci piace questa formula, la replichiamo anche martedì prossimo. Buona giornata a tutti. Grazie per essere stato con noi e alla prossima settimana. Buona giornata. Vieni a andare. Grazie.